Aspetta un attimo Come sempre in diretta dal Miramare Sanremo abbiamo l'onore di avere il piacere anche di avere Paolo Iannacci Innanzitutto benvenuto Grazie, grazie, è un onore mio Sono molto contento di farti questa domanda perché ho già sentito nelle altre interviste Anche non magari l'avrei ripetuto, però per il nostro ascoltatore è giusto dire che già a Sanremo tantissime volte Ma questa volta da protagonista, con una canzone se non sbaglio che è già in preparazione dal 2014? Sì, praticamente sì Perché come stavo appunto, come avrei avvertito dai tuoi colleghi Raccontavo che il mio produttore, che allora non era proprio il mio produttore Però è stato il produttore di mio papà, tutti gli 80 e 90 Si chiama Maurizio Bassi, si è presentato dicendo che è un bellissimo brano per me Che era importante per la mia carriera, per fare un percorso insieme E da lì l'abbiamo cominciato a proporre al festival Perché secondo me è degno di essere ascoltato da una grande platea come questa E per un po' di anni è stato scartato E poi invece l'abbiamo sempre tenuto nel cassetto pronto per farlo in caldo E Amadeus quest'anno ci ha scelti Esattamente, è vero, volevo proprio dire che Amadeus ha messo la parola finale, grazie E' un testo che funge da riconoscimento per tutti i padri Che a volte magari non riescono a dire determinate cose alle proprie figlie Però forse hai voce tu appunto a chi non riesce Sì, brava, anche questo E' un'altra cosa che non avevo considerato E me ne stai facendo notare tu E' vero perché a volte sono emozioni che uno si tiene dentro E che non sempre ho il coraggio Ma anche il desiderio, la volontà di esprimere E a volte un padre si trova in questa condizione difficile Di dover accettare la separazione con un bambino, una figlia soprattutto L'atto d'amore più importante è quello di poterla accompagnare Anzi, sto pensando ad accompagnare l'altare che mi sta già venendo male Però a farla allontanare dalla tua famiglia Dal nido in cui sai che è al sicuro E farla camminare con le proprie gambe Questo momento ti lascia un po' esterefatto Ti lascia un po' pieno di domande Rapporto padre-figlia ma rapporto anche padre-figlio Giovedì avrai l'onore e il piacere di cantare insieme a Francesco Mendelli Un successo di tuo padre, se me lo dicevi prima L'emozione di poter cantare un pezzo di papà Insomma sul palco del Teatro Ariston Grande Grande perché ma allo stesso tempo felicità e consapevolezza Questi sono i tre aggettivi che direi più consoni Perché è un brano che secondo me è importante Che lancia un messaggio sociale importante Molto giusto anche in questo periodo di una ricerca un po' di annullamento Da parte di giovanissimi ma anche di uomini, di donne di tutte le età Quando sono caduti, quando sono nel disagio più grande Il messaggio è di non mollare mai Di non entrare in questa spirale autodistruttiva Quasi per farla pagare a qualcuno qualcosa No, alla fine butti via la vita e la vita non deve essere buttata Bisogna sempre trovare una via di fuga e c'è Bene o male c'è sempre una via di fuga E quindi al 99% una via di fuga c'è E quindi il buttarsi via con una metanfetamina O con un tiro di crack O con buttarsi sotto un treno È la cosa più brutta che tu possa fare a te stesso Grazie, grazie mille Paolo Iannacci Che sentiremo mercoledì sera L'esibizione sarà mercoledì E quindi da giovedì Radio Studio Centrale Avrà l'onore e il piacere di poter sentire questa ballata Grazie davvero Grazie a voi, ciao a tutti Grazie Un attimo che devo regalarti le arance rosse di Sicilia Arance rosse di Sicilia E poi Adesso vado in stanza? No, hai altre 20 interviste oggi Occhio mamma Grazie mille Grazie mille